Questo significa anche uscire definitivamente da quel maledetto tempo, da quei bastardi anni 70 nei quali processi di secolarizzazione più si sono espressi e la cui ombra lunga arriva fino ad oggi. E guai se noi, se almeno noi non sappiamo fare queste distinzioni. Bastardi anni 70 dove le peggiori culture secolariste si sono espresse, si sono espresse, guai se non sappiamo fare questa distinzione. E' uno dei fatti dei cattivi maestri e dei cattivi genitori. Sapete perché i cattivi maestri e i cattivi genitori? E' per tutti i conomatisi degli anni 70, cattivi genitori, così occupati con se stessi. Così, guarda, a me e alla mia storia familiare tutto vuol dire franne quello. Sì, sono un anticomunista, mi dispiace, questo si può darci. Ma sono, ma sono, ma sono, ma sono, io non so chi è il cretino, chi è il cretino che possa dare del fascista a uno che fa questo ragionamento. Doveva avere il coraggio almeno di alzarsi in piedi e di dire sono io. Perché almeno è bene vedere in faccia anche qui.